La scadenza sarebbe arrivata oggi, ma essendo sabato viene posticipata di due giorni. Sarà dunque lunedì 18 giugno l'ultimo giorno utile per pagare IMU e Tasi, ad adempiere a quest'obbligo 25 milioni di italiani proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale. Anche quest'anno, infatti, queste imposte non vanno pagate sulla prima casa e relativa pertinenza, a meno che non si viva in un'abitazione catastalmente considerata di lusso. Si versa tramite modello F24 in banca o alla posta, mentre i soli titolari di partita IVA sono obbligati all'invio telematico. Le imposte non possono superare l'aliquota complessiva del 10,6 per mille, più un addizionale Tasi, fino allo 0,8 per mille. Solo 18 comuni italiani la applicano e 10 di questi nella misura massima. Ecco dunque che, a sostenere l'aliquota più alta possibile, sono gli abitanti di Roma, Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Modena, Potenza, Rieti, Savona e Verona, con l'11,4 per mille. Lo studio, elaborato dalla Will, indica l'importo medio della somma delle due imposte per una seconda casa in 1.070 euro. Ma nelle grandi città la stangata è addirittura doppia, come a Roma, dove la media è superiore a 2.000 euro, insieme a Milano e Bologna. Tutt'altra storia ad Asti e Gorizia, che non superano i 600 euro. Entro lunedì si può scegliere di versare l'importo totale di Imo e Tasi, o soltanto la metà. In questo secondo caso, il saldo andrà pagato entro il prossimo 17 dicembre. Segniamolo bene in evidenza sul calendario.